ok ok sempre sul tema della wildcard anni fa ho creato una wildcard molto rapida nel senso molto funziona molto in impromptu e funziona molto quando fai walk around che giri tra i tavoli quindi si usano solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 carte ok ve le voglio mostrare sono carte nere con una carta rossa quindi una due tre quattro e quattro carte nere ok una carta rossa che è magica e altre una due tre quattro carte nere ora quello che voglio fare molto semplice perché la carta magica se non potrebbe essere magica basta passare sulla carta nera si è trasformata in rossa basta passare sulla carta nera si è trasformata in rossa sempre sulla nera si è trasformata in rossa ok e l'ultime quattro ultime quattro molto semplicemente basta soffiare anche queste sono diventate quattro carte rosse perché in realtà noi abbiamo una due tre quattro carte rosse la carta magica è una due tre quattro carte rosse ottimo